Salve qui da Gameplay Stop Un saluto da Michele e Damiano che riprende Stiamo per fare la demo di Castlevania Lords of the Shadows Che dovrebbe uscire il 7 ottobre se non sbaglio Adesso sta per inizio, speriamo Inoltre salutiamo Gabriele Paradiso Rubop A storm is coming Mankind faces ruin and despair The world is changing Yet hope remains in the hearts of the people We go about our daily lives Never knowing the forces that can change our destinies forever We are oblivious Ignorant like sheep to the slaughter This night In the year of our Lord 1047 Marks the beginning of our journey together A journey into darkness Into madness I watch him from the shadows Is he the one? He has come far already That he will be tested Tested to the very limits of human endurance And beyond This night he rides looking for the old gods Armed with an amulet that has led him here Tonight he will begin his journey into oblivion Oblivion, it's your fear This game has also participated in Kojima Productions And the new Metal Gear Rising And the new Metal Gear Rising That is inevitable Victory is the natural objective of every creature on this world They will kill and die for their kind to dominate Some call this eternal struggle Equilibrium The balance between light and darkness And the new Metal Gear Rising No, speriamo che mettono un doppiaggio in italiano Perché se no Sto gioco deve durare 20 ore Quello... Inti... Ovviamente non è vero These are dark times Times without hope Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit Perhaps this is true Perhaps it is simply a pious lie If it is true Darkness has come to engulf one's proud humanity And we are witnessing the end of mankind This is Gabriel Gabriel Belman Il nostro protagonista Attento che tu prendi la schiena con i festivali con i festivali quindi giù talacca con boff te deo tu poff mi confo tutto figlio con le sue crosse una via di media tra Dante's in ferno e Dallalfo eccoci inscriviti moca canioli questo è uguale a che c'è un'acqua a sentire mocca giù tu batta l'arma secondaria non esplodono qua no, il che? cattolo qui sti prezzo e c'è anche un paio non è questa è la tua catturina devo guadagnare cinque punti spagnoli Perfetto. Come si è avanzato, questo e non questo. Sì, contabilità, guarda casa. Giusto, giusto, non ci c'è. Vai, chiudi, intanto che fai. Ah, non cambia già quella grossa. Ma non è una grande, è un gran combattimento. Signori e signori, paradiso. È lui, è lui. Vengono, signori, vengono. Vai a colpa di scuola. Dai, Michele, vuole solo giocare. No, vuole solo giocare. Anche questo. Questo qua con un blocco. Non lo scrivo mai. Dai, vieni qui. Qui che vanno col fuoco. Inutili. Ma che se ne frega di Dio? Che mentre sto combattendo questo è qui. Questa è la prima volta. Beh, finito il mio combattimento. Salve il video. Salve il video. E' un video. I tuoi. Chi parla? Dio, Gabriele. Già. E ora non puoi prenderci o no. Oba. Io non mi asciugare. Eccola. Ma che c'è negli sudditi, eh? non posso prendere il paolo aiutati fino a ora in the forest non posso prendere il mondo non posso prendere il mondo non posso prendere il mondo non posso prendere il fondo non si prendere il mondo determino allora rome beristo non pensino non la persona ma dai che c'è la facciamo? beh beh che dici? no vabbè dai filmate la risposta è l'amore una forza così potente che tutto il motivo diventa blinde blinde a tutte le cose, anche la vera però sono niente paradiso, più lui che è il cagnolino non c'è la morte di amore c'è perciò c'è via 3 la cd fa freddo sono lupi stanno giù il fratello di paradiso paradiso non c'è il naso è quello ecco quello che ho cercato ecco il buon morto solo che qui si ucciderà niente tanto si tembretti si, momento adatto per fare poi vediamo il primo e la ricca c'è qua e poi vediamo il primo una fantasia è efficace Sì, 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 sì. No, 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 no. E' un colo. E' un po' di più. E' un po' di più. C'è un po' di più. Oh no. E' un po' di più. Ah. Vabbè, si blocca quella prima parte ma riprendiamo la seconda. Adesso.